Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta. Vediamo. Grazie a tutti. Buono. Grazie a tutti. che abbiamo ordinato. qui abbiamo tutti. e a tutti. Sì. Allora, l'uovo e la spuma di gamberi. Qui cos'è c'è? Qui abbiamo il tè verde. Ne mettiamo un pochino. Dopodiché lo schiaffiamo nell'acqua. Questa è un pochino, si vada con questa, ragazzi. Ok, continuamente. Ed ecco, qua è arrivato i miei primi. Sì. Prendiamo le pacchette. Sì, per iniziare è tre. E si inizia. Buon appétit. Un po' di salsa di soia. E si parte. Ah, manca lo zenzero. Buon appétit. biote Grazie.